Bene ragazzi carichi come non mai da FuseGamer Oggi ragazzi siamo qui con un video incredibile Perché oggi ragazzi reaction Al Gaby Stadium Atalanta-Napoli partita decisiva Raga Non potevo non marcare il territorio Sempre forza Napoli Sempre Però vi chiudiamo non si sa mai Quindi ragazzi partita ho detto importantissima Speriamo bene Saremo in una posizione molto molto figa del campo Grazie ad eSport Palace Che ringrazio tantissimo Andiamo dentro con lo stadio Ragazzi rito Dai ragazzi Grandi Marfelli, Dasiak Ospina Oddio Napoli Oddio Napoli Dai ragazzi Dai 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 4-3-3 giochiamo Gioca Zilisca e non Fabian Dai 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 ragazzi Grande Tommy Tommy stiamo vincendo Mettano un minuto di recupero Lorenzo 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 Raga Si sta per partire Forza Azzurri Dai Comincia 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 dai ragazzi Vogliamo 11 leoni Azzurri Dai Raga parte forte l'Atalanta Dobbiamo tenere un po' più pala Dai Ragazzi Stanno attaccando solo e solo loro Ci stanno schiacciando Oh 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 è netto Barra Barra 90% delle volte si chiama il bar Quasi sempre rigore Sì Vamos Dai Loren Dai Loren Dai Loren Sì Dai 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 Loren Dai Buono Buono Altre giro dell'Atalanta Raga Hanno avuto una reazione E Doviamo stare attenti Perché questi qua Sono pericolosissimi Trova la maestro Madonna maestro Ma voglio ci segniamo Mario Rugge Ma mezzo Bravo l'illusionista Bravo 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 Non ve l'ho ripresa tutta Ma voglio è partito dalla difesa Assurdo Sì Maì Ancora di schermo 2 a 0 Dai qua giù Grandi Speriamo non sia fuori gioco Grande Loren Che assist Dai 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 qua giù Buona Buona Ma che pulite Ma che pulite Ma che pulite Ma che pulite Due babba Due babba Due babba Due babba No Culi Madonna Culi Se me lo facevi tu Culi Impazzio Impazzio Primo tempo così Madonna raga Finisce il primo tempo Abbiamo sfruttato tutte le occasioni Tranne quest'ultima di colipare di peccato Loro stanno attaccando Quindi non appassiamo la guardia Merito di ribello Accondizzato Non c'era rigore ragazzi Non c'era Oh mi hai andato a guarda Secondo tempo Comincia il secondo tempo Concentrazione Ancora 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 Va giù E io Vi prego Ancora Noi Dobbino No Vamo 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 Vamos Vamo eh raga forse il gole si sta accorciano le distanze bisogna chiuderla entra Elmas e esce Politano bravo Turi bravo no mamma mia ti prego fischio manca ancora un quarto d'ora raga ma non ho capito cos'è ridurre hai angolo ok orca miseria Fabiano ma non sbaglia i passaggi non ho capito cos'è ridurre ma non ho capito dai ragazzi sofferta grandi 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 grande azione grande azione siamo partiti da Coulibaly ha fatto il lancio se non sbaglio per Lozano si Lozano la mette al centro cazzone raga 3 a 1 vorrei fare i complimenti a questo ragazzo per la prestazione Zanoli mamma mia che partita che hai fatto grazie vai pei ciucchi pei ciucchi pei ciucchi per il quarto maronna mia vamos tre papà tre papà tre papà ragazzi partita la grande squadra abbiamo approfittato di qualsiasi cosa bravi così testa settimana prossima con la Felentina mi raccomando 3 a 1 mi raccomando lasciate un bel mi piace un bel commento iscrivete al canale non ci piace il nostro video bella ragazzi vai